andiamo in guerra battle royal gas in avvicinamento rapido andate nella zona sicura allora io direi lamber o lamber no o port, port, che ne dite di port? ecco la nostra e allora, port, un minchia acqua ok, vediamo affermativo minchia, ne dobbiamo fare strada io taglio per dove c'è io taglio per l'hospital, c'è l'elicottero sul tetto, se riusciamo a ah, hospital, va bene, dai andiamo a hospital cioè, perché viene di passaggio vediamo se lo raggiungono altri giocatori infatti, in caso cambiamo strada sì, perché sarà sicuramente allora, uno ci sta andando però è sceso tutto giù a pian terreno guardate sulla sinistra quanti c'è n'è, raga guardate sulla sinistra quanti c'è n'è, un bordello io sono sull'elicottero occhio, è arrivato un altro ok vi vando anche io e te aiuto ah, no, è scappato direttamente andiamo ok aspetta che apro sta cosa vai vai, 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 vai beh, lì sto andando dove avete segnato prima perfetto però ci andiamo con un elicottero ok ci sono i volumi sballati la chat esterna funziona meglio ma non abbiamo che farlo Ma che qua la possiate? C'è la pompa di vento Dunque ormai ho io la patente Sì, su quest'elicottero non si sente niente Infatti io sto aumentando, ok perché Mi ricordo che nell'altra Playstation ho modificato ma No, no, ok Oh ragazzi che mi sento Oh no, dove c'è la pompa di benzina Minchia C'è la taglia qua No, 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 però No, no, la taglia Noi dobbiamo eliminare questo qua No, dovremmo eliminare questo qua L'ho preso io Ragazzi a cura che ci siamo È sul tetto di fronte Sì, sì, infatti sta cambiando porta Ve l'ho segnato È quello che noi dovremmo uccidere A me mancano le armi Ci proviamo? Ci proviamo? Non ho armi, devo trovare prima le armi E poi Come sei tu, Adriele? Io sono con la pistola Ma ora cercherò qualcosa Allora state a cura Ok, i cecchini E qua c'è un cecchino Eh sì, è quello che dobbiamo uccidere Se trovate armi Ci andiamo a rompergli il culo Vediamo se sopra c'è qualcosa Ancora niente C'è un'arma Niente da fare Ma che cazzo Ma che cazzo è Oh ragazzi Qua dove c'è Quest'edificio con i muri blu Cioè ci deve essere un po' di roba Qua c'è un mitra Mitraglietta qui Te l'ho segnato Ok Vediamo se riesca ad entrare qua E qua ce n'è un altro Quindi è pieno qua ragazzi Vabbè qua dovremmo trovarla Eh qua ce n'è due Una Qua dentro ce n'è uno Dove? Qua dentro dove? Eh vabbè Aspetta Faffanculo che manco Ma mitraglietta di merda Compate lo segnate due Perché giri a muzzo? Sì sì lo so Lo so Ancora devo andare Io non ho capito dov'è questo Che ha ucciso Adriele Ecco qua Dopero io Dopero io Mi ha pure ammazzato Raga va bene Quindi sono solo Allora andiamo nel Gulag Aspetto Aspetto dove mi sto fermo Così se voi Magari rientrate è meglio Io ho una C4 E non so come cazzo si usa Compagnone Gulag Se sopravvivendo va a tornare in azione Ah di se qua la ti piglia a puni va Allora il compagno non lo posso prendere Io tiro le pietre sui giocattoli che comba Deve tutti i tic del mondo Guarda guarda come Guarda guarda come Guarda che ho unilare Ok Ragazzi l'ho ucciso Allora nel Gulag Devo posso aiutare Perché l'abbiamo sperimentata questa cosa Ok Ah di lui è nascosto È praticamente vicino dove sei tu Vi ho vendicati Vi ho vendicati Alla sinistra Alla grande Ok Ora ti sta dando le spalle E' ammazzato bravo Perfetto Vediamo se riesco a ammazzarlo pure io Questo stronzo Raga mi ha dato un fucile bestiale Allora gli tiro le pietre No io sono morto Raga sono fuori la partita io Fate una buona partita anche per me E per ora io sono nusulu No sono tutti Ti sono due Ah ok favoloso Io sono qua ti dico dove Qua è pieno di armi Faccio una chiamata veloce Raga sono sempre in gioco Vabbò Ok sei dentro questo edificio Sì sì qua A dopo Ok Allora Raccogliti le robe E poi ci andiamo ad ammucciare Ok Ma io mi starei pure qua Minchia Guarda che bello Mi ero appoggiato Ma se è poco vero Mi ero appoggiato C'è uno sul tetto C'è uno sul tetto C'è uno sul tetto Un altro un altro forse c'è C'è un altro C'è un altro Nemici nell'area Granata 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 Cazzo Ci sei Ok non mi ha preso Io ci so Ci so Ok è morto Minchia Favoloso Favoloso Allora se mi copri Vado a prendere un'amma Ma che scelta In un uccidio Un pasto Posto è micidiale Ricordiamocelo Raccogliti tutti Ma che cazzo C'è uno sul tetto C'è uno sul tetto Forse Calma Nasco di due atti Perché ho visto qualcosa Non so se Ci stai vedendo Marco Sì sì Ok No niente tranquillo Forse era Passato un piccione Niente battute C'è uno C'è uno Puttana Mentre mi cambiavo il fucile Preso Minchia ma Li stiamo spandando Alla testa Vado a controllare Ok Vi controllo questo ingresso Stiamo riempiendo di cadaveri qua Maschera antigas Perfetto Allora chiudiamo ste porte Sì sì infatti Perché entrano tutti da qui L'unica cosa che mi manca È claymore Cose da piazzare a terra Porca miseria Anche io non ne ho Io ho due buone armi Tra cui un fucile da cecchino Il nostro elicottero è ancora lì Perché mi sa che tra poco Sì sì Tra poco No Ancora un altro giro Lo possiamo fare Ok Ok Ho sentito Scricchioli Scricchioli di metallo Sì Senti Lo sento lo sento Volendo io potrei rientrare pure in partita Però vabbè Vediamo Minchia vero Abbiamo 4500 Allora Dobbiamo arrivare a carrello Lo vedi? Vedi? L'ho attivato adesso E facciamolo ora perché siamo vicini Sì dai andiamo andiamo Così proviamo una volta per tutte Mi sono accolta adesso Proviamo una volta per tutte sta cosa Stiamo a cura Dov'è il L'ho segnato È indicato Allora non so però come cazzo si Ok Torniamo lì Rischieramento Torniamo Sono rientrato in partita infatti raga Perfetto E ci sono le armi qua Marco ci sono qua armi Sì Infilati subito Arrivo Mamma mia favoloso Sto precipitando Gassi in avvicinamento Ok Perfetto Che poi sono tutto gasato ma siamo ancora a 90 Cioè Presi Cioè Armi presa L'abbiamo fatto un cazzo Perfetto Mi raggiungo Ora sì che si ragiona Occhio ai nemici Oh Vedi che mi cussesse 4.500 Eh La prossima volta a ricambio Eh esatto Siamo pieni di soldi perché abbiamo ucciso quelli e abbiamo fatto pure la taglia Perché gli fatti soldi Mamma mia l'odio il suo rumore Sì Ma quando esce? Quando esce sto gioco? Eh Eh purtroppo Ah il 3 aprile dovrebbe uscire no? Ho sentito dire il 3 aprile Forse Doveva Già doveva essere uscito forse O comunque a breve Ma è stato rimandato Perché per problemi di spedizioni Con l'Alifax Chi la distribuisce Hanno detto Ne riparliamo ad aprile E poi si vede Perfetto Io mi voglio ricordare quest'hangar Port E' ottimo Sì Comunque è importantissimo Decidere dove iniziare la partita Dove spostarsi inizialmente Cercare di capire dove si può restringere il cerchio Ma lo sai perché è buono sto punto? Perché c'è sto balatone dove appoggiare il fucile E tu hai una mira stabile Per tutti quelli che entri Anche qua Anche qua Dove? Ieri siamo andati a fine Nelle farm Ah minchia Pure lì è buono Mi pare Siamo apposta Chi entra qua E' fottuto E' fottuto Tra l'altro Anche ci sono delle porte E anche se qualcuno Entra da queste porte Abbiamo rischiato E uno ci ha tirato una granata qua dentro Maledetto Sì Sì Guarda Meno male che questa granata Era quell'adesiva Perché altrimenti eravamo morti Ah era quella più scarsa Perché si è bloccata nel compensato Sì esatto Si è bloccato nel compensato L'abbiamo fatta così Infatti ci è bastato allontanarci un pochino E poi ricominciare ad attaccare Io ho una iniezione di adrenalina che non so che cavolo possa servire Ah questo serve Questo è importante Perché quando vai giù Quando sei a terra forse Esatto Quando ti abbattono Ma non sei ancora morto Invece di aspettare il compagno Ti puoi Poi azzeccare sta cosa E ritorni in partita Ma bestiale allora Non l'ho mai usata Sì sì Non c'è tuonare Niente ok Ok non c'è più Mi pare Io non ce l'ho Appena ce l'ho Lo proviamo Ah perfetto Ok mi è uscito il telecomandino Non l'ho A posto Tra un po' mi pare che dobbiamo spostarci Raga Dici Tra un po' si restringe il cerchio Vediamo Sì Cerchiamo magari un punto Quello alto Così sfruttiamo il mio cerchio Io direi Io direi No a posto Io direi qua Ancora la possiamo stare Ancora no Ancora no Spegnato è la mappa Devo andare eventualmente Se gli va Si è ristretto Ma da noi è rimasto fermo Siamo nella zona sicura Sì Occhio ai nemici Che se sta in silenzio senti tutti i rumori Senti anche il respiro Nel gioco stesso Del Personaggio Momenti di tensione UAPI nemico in volo Minchia In realtà siamo Dovremmo essere protetti Perché dietro è tutta zona rosso Possono venire solo da queste entrate La cosa buona è che L'interazione con l'ambiente è zero Quindi Possono spararci quello che cazzo vogliono Abbiamo un tetto sopra la testa Anche di plexiclass Siamo salvi Già Questa è una cosa che vogliono È una cosa che vogliono fare passare per fighe in Battlefield Ma a me non piace onestamente Ciao Ah ragazzi Mi sono accorto adesso di avere preso Uno scar senza munizioni Cioè di avere uno scar senza munizioni L'altro invece ce li ho Aspetta vedo se ce li ho Sì è un bel foglio Aspetta Lasciamone qualcuno Tieni Ok grazie E tieni Perfetto Grazie Ora sì Ok Ok Pronti elicottero Elicottero Vai Elicottero Stiamo a cura perché è un po' che non usciamo fuori E non so quanta gente ci sia nei petti Ma dove cazzo siamo arrivati Minchia ci siamo imbottigliati Non penso perché si devono spostare Ah beh di qua si può andare Che miseria Eh Va Marco mi hai fatto cacare di sopra Ho visto uno spuntare saltando Ho scavalcato Ti vuole guidare? Uguale No io no Allora Ti faccio la gara a guidare Vuoi provare tu? Vai 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 Andiamo dai Vai Io ho il mitragliozzo E allora Dove volete andare? In una farm Sì va bene A destra o a sinistra? Lo ho segnato io Proviamo Ok Però atterra piano piano Perché così vediamo se c'è Boh sembra di no Vai vai Sembrano sani i vetri Vai Scendi Macchina in arrivo Ok una macchina sta passando raga Una macchina sta passando Vai non c'è nessuno Non c'è nessuno Dai C'è una piastra che mi servirebbe Che non ho un cazzo di piastra Che andiamo Pure sopra ci possiamo mettere bellamente Sì sì io c'ho il cecchino pure Occhina di conto della cappetta Qualcuno che guardi la scaletta Qualcuno che guardi la scaletta Allora quindi uno è morto C'è ancora Ce n'è ancora Tre cadaveri Ok scendiamo Fottiamoci le robe vabbè si è qua si vi copre che sono col cecchino senti che... ah ok perfetto qua c'è una piastra il cardio piastra... che cazzo c'è? qua c'è una carabina e una k47 e una bella carabina qua c'è un cecchino pure forse ce l'ho il cecchino io un cecchino ho preso ah di nuovo all'helicotter dobbiamo spostare prendiamo l'helicotter ci dobbiamo spostare cazzo saliamo sull'helicotter e mettiamoci al centro non so se è sano l'helicotter ah si meno male ok andiamo che cazzo è stato? in realtà io direi direi pure qua guarda è la strada me ne pensi? ma chi è la strada? no 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 ce l'ha fatta a sparare ce l'ha fatta a sparare dall'helicottero vediamo col fluscio di precisione e fermo un attimo fermo un attimo fermo un attimo fai fermo un attimo fermo un attimo c'è forse l'ultimo Allora lo ammazziamo Dov'è? Paris E' qua dietro Il chiamacco è scelto Si è andato L'elicottero Ok raga abbiamo ripulito un tetto Mamma mia Guarda qua che c'è Ragazzi sotto ci sono un sacco di giocatori Ok aspetta che mi apposto perché C'è la scanna qua Aspetta che l'abbasso Vediamo se riesco Ragazzi elicottero elicottero siamo fuori Elicottero elicottero Non ce n'è più l'elicottero Non ce n'è più elicotteri Scappiamo scappiamo saltiamo raga Ora qua dobbiamo giocare a sangue e freddo Occhio ragazzi Siamo pieni Qua ce n'è uno Molto Ok molto Cazzo Cazzo Ma vaffanculo Chi mi sta sparando E qualcuno mi ha sparato Dall'alto Dall'alto Vieni qua Marco vieni qua Adri Adri Per risollevarmi Ci sono Vai 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 Girati Dario girati alle tue spalle Ce ne sono due Ok a posto Dove? E li sono ritirati Ma dove è che ne hanno sparato? E c'erano due E ci sono ritirati Uno lo Non l'avevo abbattu No erano dietro di te Che cazzo? Cazzo un'altra volta Vieni qua vieni qua Vieni qua Marco vieni qua Minchia Meno flash per cazzo Non vedo più un cazzo Eh te la mordo Dobbiamo spostarci da qua ragazzi Dobbiamo spostarci Aspetta aspettateli No cazzo Porca troia Sto cercando di andare il più possibile Pure io Dario Dario guarda dove sono Vediamo se rischi a spazio Ormai c'ero circondato Sì 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 no Sto cercando Raga Io non capivo da dove sparavano questi strozzi Da dove hanno sparato non ti capiste Erano sopra Erano sopra Da qualche parte sopra Bastarti Quindi non avevamo dove scappare Raga Se uccisioni me le sono portate a casa Poi abbiamo ucciso 11 persone Ottimo Sì sì infatti Abbiamo fatto una buona partita È stata per ora